buongiorno ragazze e benvenuti in un nuovo vlog oggi il video è sponsorizzato da questa bellissima azienda la jedi che mi ha mandato per provarlo insieme a voi appunto durante questo video un robottino che aspira e lava quindi sono contentissima di avere questa collaborazione con questa azienda anche perché io sinceramente vi dico avevo intenzione di comprarlo questo robottino perché con due animali in casa sapete in che condizioni poi vanno a finire i pavimenti qua come potete vedere sto spacchettando il pacco appunto che è appena arrivato se sentite i rumori in sottofondo sono a delle alde che sono qua vicino a me è un robottino classico ha la funzionalità appunto di aspirare e lavare e aspirare e lavare insieme qua ci sono tutti gli accessori io spero di darvi una opzione di acquisto valida se avete intenzione di cercare e acquistare un robot del genere questo è l'aspetto del robottino viene dato in dotazione con la stazione di ricarica naturalmente con dei cuscinetti o comunque dei panni intercambiabili per lavare in terra questa è la spazzolina che ruotando acchiappa tutta la polvere e naturalmente qua vedete la spina elettrica per poterlo ricaricare troverete il link per l'acquisto nell'infobox mi raccomando guardate questo video perché naturalmente lo vedrete un po' protagonista e mi aiuterà a fare un po' di pulizie adesso vi lascio all'inizio del video grazie a tutti grazie a tutti buongiorno ragazze benvenute in un nuovo vlog allora oggi è sabato questa è stata la prima settimana di scuola per le bimbe quindi questo è un giorno di riposo per loro è andato tutto bene devo dire la verità ma diciamo per chi mi segue da tanto tempo i problemi che abbiamo avuto con la scuola l'anno scorso con adele che qua non voglio che mi senta sono subentrati quando iniziato a stare a scuola anche per la mensa e quindi a fare il tempo pieno il problema sta nel fatto che l'anno scorso era il primo anno di scuola e quindi lei ha sofferto tanto del fatto che c'erano tante restrizioni e quest'anno speriamo che vada un pochettino meglio lei sicuramente è cresciuta quindi è già abituata a quello che doveva fare l'anno scorso e speriamo che vada tutto bene se noi e cristiano vedremo il da farsi detto ciò avete visto la prima clip che riguardava un robottino che mi hanno gentilmente inviato avete visto la marca è ieri ringrazio questa azienda per avermi ho inviato per provato insieme a voi se sentite questo rumore di sottofondo e i gatti che scappano è perché lo sto provando i gatti sono terrorizzati mi hanno fatto morire da ridere le ragazze perché la prima volta che l'ho provato è stato ieri sera è tutto collegato tramite app lo puoi sia attivare lo vedremo nello specifico dopo insieme sia attivare col tasto manuale sia con l'app integrata nel cellulare come l'ho attivato ieri mitte l'ha fatto un salto che non vi dico e adesso invece siamo nella fase in cui lo rincorrono e siccome ha quella specie di spazzolina che gira per raccogliere la polvere devo stare attenta perché sono tutti e due intenti a cercare di staccarla detto ciò di questo robottino parleremo subito ringrazio l'azienda per aver sponsorizzato questo video e niente ragazze io adesso sono nella fase come potete vedere dalla mia faccia di risveglio abbiamo passato un'estate in cui ci svegliavamo tardi vi dico la verità quindi le bambine si sono riallineate con con gli orari io stamattina come potete vedere dal mio naso sto soffrendo di una forte allergia infatti mi devo prendere l'antistaminico stavo dicendo si sono riallineate con gli orari quindi vanno a dormire tra virgolette presto 9 9 e mezza sono già a letto e naturalmente oggi è sabato e alle otto e mezza erano già sveglie io sono contenta perché comunque per me lo svegliarsi tardi la mattina anche se mi fa tantissimo piacere mi fa perdere una fetta di mattinata in cui faccio un miliardo di cose quindi non so come andrà come sempre questo vlog domani dobbiamo fare un tour se il tempo ce lo permette e vi farò vedere direttamente domani dobbiamo fare una specie di scampagnata con la famiglia io come potete vedere sono in condizioni piettose per quanto riguarda la cucina perché non ho caricato la lavastoviglie ieri sera ero stanca e quindi ho detto faccio tutto domani mattina devo solamente fare le pulizie quelle classiche del fine settimana ho già caricato una lavatrice e spazzato in terrazzino se riesco devo pulire le finestre che io ogni tanto me ne faccio una ma ho fatto solo quella della parte del salone e devo fare le due porte finestre che ci sono nella parte della cucina quindi ragazze non so vi ripeto come andrà è un classico fine settimana in famiglia fatemi compagnia e ci aggiorniamo più tardi intanto la signorina qua l'ho attivata e sta facendo una specie di mappatura nella casa hai già fatto tutto il salone contate che questo è un robot che lava e aspira in questo momento sta solo aspirando perché gli ho tolto proprio il serbatoio ma niente vi racconterò tutto dopo perché la sto effettivamente testando per recensirvela al meglio e tu e tu cosa ne pensi di quella signorina che sta andando in giro che hai tentato di ucciderla già dieci volte brutto monello che non sei altro musito 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 mi sta ignorando mi sta ignorando amore mi sta ignorando ammiglia face ammiglia face ammiglia face ammiglia face a ammiglia face ammiglia face a un Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. 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 utilizzato. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. su. a tutti. a tutti. a tutti.